che arriva ve lo faccio sentire in diretta dietro c'è anche il pullman del Napoli arrivata la squadra arrivato anche il Napoli con i tanti tifosi tanto siamo un po' coperti dalle bandiere ma proviamo a mostrarvi in diretta anche l'arrivo del pullman azzurro eccolo qui lo vedete con il nostro Emanuele Bernardo con i tifosi che fanno sentire la propria voce a sostegno